Ascoli Piceno ancora è indietro sul fronte della ricostruzione delle scuole. Il Partito Democratico va all'attacco dell'amministrazione Fioravanti a pochi giorni dal suono della prima campanella. Non si vedono gru in città, afferma il capogruppo Francesco Ameli. Siamo ancora fermi al palo, purtroppo siamo fermi al palo perché ancora non vediamo nessuna gru su nessuna scuola, nonostante i finanziamenti siano risalenti addirittura al 2017, mentre la ricostruzione privata comunque grazie al grande operato del commissario Legnini è partita, noi ad Ascoli siamo completamente fermi in merito all'edilizia delle scuole. Ed è un controsenso fare la festa della scuola e poi dopo allo stesso tempo non avere scuole sicure, comunque scuole ricostruite, scuole adeguate dove poter mandare a scuola i nostri ragazzi. Un problema che hanno tantissime decine, centinaia, migliaia di persone in città, un problema che non può essere sottaciuto. Più che un flop, una chimera, secondo i democrat, l'idea delle scuole temporanee. La festa della scuola viene considerata dal PD solo un'occasione per fare propaganda da parte del sindaco Fioravanti. Tanta enfasi ad un bando dell'amministrazione per trovare scuole temporanee, ormai inizieranno scolastico e di queste famose scuole temporanee neppure l'ombra. Perché? Come mai sta accadendo questo? Noi abbiamo una certezza, ovvero che questa amministrazione viaggi molto a slogan ma poco a fatti concreti. Ecco, un invito al sindaco di Ascoli Piceno, a tutta l'amministrazione, a pensare a fare fatti più importanti per i cittadini di Ascoli Piceno piuttosto che perdersi in rivoli che però di concreto non hanno nulla.